Ok, allora questa mattina la dedichiamo a fare un esercizio insieme e col pretesto dell'esercizio impareremo un pochino meglio a strutturare le nostre applicazioni JavaFX, o forse dovrei dire col pretesto dell'imparare a strutturare meglio le applicazioni faremo insieme un esercizio, vedetela come volete, andiamo avanti di pari passo con l'impostazione teorica e poi l'esempio pratico. Io parto da un'osservazione, dall'esercizio che avete fatto insieme a Marcelli la settimana scorsa, il mio discorso in cui avevate implementato quel bellissimo giochino di indovinare il numero e vi chiedo lo sforzo di fantasia di immaginare quello stesso esercizio dieci volte più complicato o 50 volte più complicato, se cominciate a metterci delle regole in più, a metterci delle modalità di gioco in più, eccetera, eccetera. Cosa succede? Succede che la classe controller comincia a gonfiarsi a dismisura, perché dentro i metodi del controller c'era tutto, se ricordate, a parte dei piccoli oggetti, delle piccole stringhe fuori, ma tutta la logica del gioco e tutti i dati su cui il gioco lavorava, in quel caso erano molto semplici, cioè il numero indovinare, il tentativo, eccetera, risiedevano tutti all'interno della classe controller. Quindi, problema numero uno, se il progetto diventa più complicato, con ciò che sappiamo fare oggi, tutta la complicità va a finire dentro il controller. Per come è strutturato JavaFX, di controller ce ne deve essere uno solo, quindi non è che posso dire vabbè, ma metto un po' di funzioni in una classe, un po' nell'altra, le divido in funzione delle competenze, cosa che si fa normalmente nella programmazione. Non riesco perché la classe controller deve essere una sola, perché è quella collegata all'Fxml. Quindi questo mi dà un problema. Secondo problema, all'aumentare la complicità del gioco, dell'applicazione, diventa sempre più complicato testarla, perché per testarla cosa devi fare? Devi fare partire l'interfaccia grafica, inserire i numeri, provare a fare una partita, provare a fare due, eccetera, eccetera. L'unico modo di esercitare le funzioni del controller è quello di farlo direttamente all'interfaccia grafica. Il controller non è una classe stand alone che tu possa testare separatamente. E allora, a maggior ragione, se la logica dell'applicazione diventa più complicata, ogni volta che modifico qualcosa, dover lanciare l'applicazione grafica, provare a inserire i dati, provare a cancellare, provare a ricercarle, eccetera, a mano, diventa abbastanza odioso. E allora cerchiamo di risolvere questi due problemi. Come? Cercando di separare le competenze, separare ciò che deve fare il controller da ciò che deve fare l'applicazione dal punto di vista logico. E cerco di spiegarmi. Cerchiamo di disaccoppiare, come dice qui, la logica dell'applicazione rispetto all'interfaccia grafica. In modo che l'interfaccia, diciamo così, controller, abbia una complessità che dipende essenzialmente da quanta roba c'è sull'interfaccia grafica, ovviamente più bottoni, più eventi a gestire, più saranno i metodi del controller, però lì, insomma me la gestisco, separato da quello che è invece la gestione dei dati, che metto in una classe separata, o in una o più classi separate, e che quindi posso sviluppare, testare, far crescere indipendentemente da quello che è l'aggancio dell'interfaccia grafica che ci sta sopra. Quindi separo i dati dall'interfaccia, mettendoli in classi separate. Ovviamente dobbiamo un po' darci delle regole per essere sicuri di non fare delle stupidaggini, ad esempio di non avere dei dati all'interno dell'applicazione che sono diversi da quelli che vengono visualizzati nell'interfaccia grafica, quindi devo tenerli sincronizzati in qualche modo. Allora, come facciamo a trovare una soluzione? Allora, questo è un pretesto per parlarvi, cominciare a accennare di quello che è il concetto di design pattern. Quella che abbiamo adesso è un problema, il problema di come tenere separati ma collegate l'interfaccia grafica rispetto alla gestione dei dati, dei dati della logica dell'applicazione. È un problema comune, è un problema che si ripete molte volte, adesso ce lo facciamo come lo JavaFX, ma se facessimo un'applicazione web sarebbe la stessa cosa, se facessimo un'applicazione mobile sarebbe la stessa cosa, eccetera, eccetera. Quindi è una tipologia di progetto ricorrente e come tale i programmatori si sono negli anni o nei decenni scervellati per trovare varie combinazioni che permettersero di gestire al meglio problematiche di questo genere. Ecco, questo ha fatto sorgere quei cosiddetti design pattern. È stato introdotto il concetto di design pattern che è di fatto una soluzione dimostrata, cioè in cui si è dimostrato che funziona bene, a problemi ricorrenti. Non è che mi invento un design pattern per un problema che capita una volta e non capiterà mai più, non vale la pena, però se vedo che lo stesso tipo di problematiche continuano a ripetersi, magari in ambiti diversi, ragioniamo su quale è la soluzione e impariamo quella soluzione lì e quindi la applichiamo. In questo corso non approfondiremo molto questo, ma 4-5 design pattern li useremo abbastanza frequentemente, che ci guidano. Non stiamo cambiando la programmazione oggetti, sempre programmazione oggetti è, però domande semplici del tipo, ma questo metodo in quale classe la metto? Oppure questa roba qua deve essere un metodo statico oppure no, un metodo di distanza di classe? Dove è meglio salvare questo dato? In quale classe? Domande che rientrano nella programmazione oggetti. Devo progettare le classi e secondo ciò che avete imparato di Java, una soluzione vale l'altra, purché compili correttamente, purché il programma funzioni correttamente. Noi stiamo cercando di vedere un pochino da sopra, c'è due cardini sopra e diciamo ok, tra le varie soluzioni che compilano correttamente, qual è quella che mi dà un pochino più di benzina per andare più lontano? Quella che mi dà un pochino più di flessibilità per riuscire a costruire applicazioni un po' più che non più grandi? Quindi design pattern in realtà non è una classe, non è un costrutto, non è un istruzione, non è un comando, è un modo di impostare la vostra applicazione, ok? Che ovviamente usa e sfrutta i costrutti dell'abito oriente, per cui impareremo come usare le varie sottoclasse, lo statico, i costruttori, eccetera, per far saltare fuori ciò che piace a noi. Uno dei principi di base è quello di avere dei pattern che siano in grado di sopportare o di gestire l'evoluzione del software, perché il software cambia. Allora il nostro crucio principale sarà sempre quello di chiedersi, ma se cambia questo, se devo modificare questo, se devo aggiungere le funzioni, quanto mi faccio male, quanta parte del programma devo riscrivere, oppure devo ritestare, eccetera, eccetera. E se siamo bravi la risposta è, ma non tanto, basta modificare quella parte di competenza e non c'è nulla di trasversale che va a toccare tutto, poi non sempre si può. Allora, nel nostro caso specifico, il pattern di programmazione prende il nome di Model View Controller, che è illustrato da questa figura. Queste figurina qua sono prese da questo libro che vi ho fatto vedere prima, di cui vi ho fatto vedere prima la copertina, che di nuovo, come vi dicevo già alla prima lezione, mi piacciono i libri di questa serie, perché sono relativamente leggeri da leggere e tutto sommato però hanno informazioni che servono. Dicevamo, io in questo pattern, o meglio, l'impostazione che diamo per cercare di risolvere il problema che abbiamo scritto prima, cioè che mettere tutto dentro il controller è un casino, scusate se non è molto scientifica come definizione, ma è realistica. La soluzione è quella di separare le competenze. Quindi avere classi diverse che fanno cose diverse. Allora, questo pattern lo ritrovate ovunque, in qualunque tipo di applicazione che in qualche modo interagisca con l'utente, questo o varianti di questo, insomma. Allora, questa è la versione più semplice, il cosiddetto MVC, Model View Controller. Cosa vuol dire? Vuol dire che la mia applicazione dovrebbe in qualche modo essere separata, proprio a livello di classi, in tre gruppi di classi diverse. La vista, il controllore e il modello. E ciascuno di questi tre deve avere delle competenze ben specifiche. Partiamo dal modello che è più facile. Il modello è la parte di applicazione che deve contenere tutti i dati e tutta la logica applicativa. cosa vuol dire tutta la logica applicativa? Vuol dire che se c'è una regola, ad esempio, che quando io ho inserito un numero, poi dopo non ne posso più inserire un secondo uguale, cioè i numeri che inserisco devono essere tutti diversi, questa regola deve essere applicata, deve essere fatta rispettare da questa classe al modello. E non dall'interfaccia utente per cui se l'ho già inserito, schiaccio quel bottone, non è più abilitato, oppure mi dà un errore, ma se ne accorge il controller quando ha intercettato l'evento. Le regole del gioco o le regole dell'applicazione, la logica quindi dell'applicazione deve stare possibilmente tutta dentro il modello. Dati e logica. E questo modello che cosa fa? Incapsula i dati, li tiene in pancia e espone come metodi pubblici le operazioni di alto livello che si possono fare su questi dati. E valida ovviamente la validità dei dati in ingresso, in uscita, la correttezza delle operazioni che mi hanno richiesto e così via. Quindi la l'interfaccia per poter accedere. Allora il resto delle classi, cioè la vista e il controllore servono per agganciare un'interfaccia utente al modello. Concettualmente l'interfaccia utente è divisa in due parti. Una parte che mostra i dati all'utente, che è la cosiddetta vista, e una parte che reagisce alle azioni dell'utente, che è il controllore. Allora queste cose qua per noi sono facili perché le abbiamo già viste. In JavaFX la vista si chiama scena, il grafo della scena con tutti i nodi, quei nodi lì, cioè ciò che noi descriviamo nell'fxml è la vista e la classe controller è quella nella quale mettiamo i metodi di gestione degli eventi. Quindi come parlano tra di loro queste cose? Allora innanzitutto la vista ovviamente viene esposta all'utente. Mostra che cosa? Mostra dei dati e questi dati da dove li prende? Li prende dal modello. Poi però la vista permette all'utente di interagire. E quindi ogni volta che l'utente fa qualcosa viene chiamato in causa la classe controller. E la classe controller alla seconda di cosa ha fatto l'utente può fare due cose, agire sulla vista e o agire sul modello. Magari ci sono operazioni in cui schiaccio un bottone e devo semplicemente abilitare una finestra, una tendina, un testo e quindi il modello non c'entra, sono semplicemente operazioni che il controller fa per gestire l'aspetto grafico, la vista. Ma a volte, molto più spesso, quando l'utente fa un'azione che viene intercettata dal controller, questo implica che il controller a sua volta richiede al modello di fare qualche cosa. Devo inserire un dato, devo ricercare un dato, devo cancellare un dato e così via. La cosa bella è che il controller non conosce i dati, non deve gestirli lui, non deve memorizzarli lui, per cui se un domani mi voglio inventare una struttura dati più complicata, i dati non li voglio tenere in memoria, li voglio mettere su un database, il controller non lo deve sapere, non ha bisogno di saperlo, perché l'unico che deve sapere o che è interessato a sapere come sono gestiti i dati, dove sono memorizzati, è il modello. Qui cercheremo di tenere separati bene queste cose. Adesso proviamo a mapparlo su JavaFX, perché questo è un concetto generale, il modello di controller. Su JavaFX abbiamo detto che la vista è l'FXML, quindi è composta dai nodi nel grafo della scena. Il controller in realtà è fatto di due metà, una prima metà è già dentro l'applicazione JavaFX, cioè quella che reagisce quando gestiamo gli elementi dell'interfaccia grafica, quindi il bottone sa farsi premere, la carta di testa sa farsi scrivere dentro, cose di questo genere. Le operazioni native dei nodi sono già gestite da una sorta di microcontroller che c'è dentro ciascun nodo, ma questo livello di dettaglio non ci interessa perché noi non andremo mai a creare dei controlli personalizzati e quindi capire cosa succede dentro, dentro ogni singolo controllo. A noi interessa la scena nel suo complesso e gli eventi della scena che decidiamo che ci serve intercettare, a cui i bottoni, le azioni, eccetera, a cui vogliamo agganciare un event handler nostro. Allora quello è il nostro controller, il controller di alto livello, nel quale mettiamo tutte le regole di gestione degli eventi e il modello invece gestisce i dati, una classe o più classi tendenzialmente che memorizzano e gestiscono i dati. Quando introdurremo il database per poter memorizzare l'informazione sul database, questo sarà collegato al modello, di proprietà del modello, è solo il modello che sa dove sono i dati. Proviamo a rivedere la stessa cosa sotto forma di diagramma delle classi. Allora noi sappiamo che abbiamo un'applicazione JavaFX che è figlio di application, col suo metodo start, eccetera, eccetera. dentro l'applicazione noi abbiamo già in qualche modo una classe controller, non è visibile, non è una variabile ma dovremmo riuscire a tirarla fuori, una classe scena, una variabile scena, il nostro main c'era una variabile scena e in qualche modo l'applicazione deve conoscere il modello. Qui c'è il main dell'applicazione deve conoscere tutti e tre, ovviamente perché è il main che crea tutto. Quando nel main abbiamo l'istruzione fxml loader che carica l'fxml è l'istruzione con la quale il main costruisce la vista, costruisce la view e restituisce il nodo radice della vista. Il modello non ce l'avevamo ancora avuto quindi non l'abbiamo visto, il controllore in realtà non costruisce il main ma lo costruisce dentro l'fxml loader, ci pensa lui, ma alla fine è tutto creato dal main. E poi ci sono le tre classi modello, controllore e vista. Quindi qui abbiamo delle frecce che dicono l'applicazione crea il modello, l'applicazione crea la vista, cioè la scena e l'fxml loader che fa parte della scena a sua volta crea il controller. Noi avevamo una classe controller ma non mi ricordo che abbiamo mai scritto new controller. Compariva così a gratis, perché? Perché dentro l'fxml era richiamato e l'fxml loader era abbastanza furbo da fare lui, la new del controller. E poi cosa fanno? Noi abbiamo già visto il meccanismo di eventi per cui la scena genera degli eventi e li passa al controllore. Dentro il controllore ci sono gli event handler che gestiscono questi eventi. La scena a sua volta in qualche modo permette ad esempio i get, i set, get text, set text eccetera di essere modificata, di essere gestita dal controller. Quindi chi è che modifica il contenuto della scena nel nostro caso? Il controller. Se deve cambiare qualche cosa sulla scena è il controller, vedete che chiama gli opportuni metodi get o set sulla scena per poterla modificare. Per poter innanzitutto capire cosa c'è, quindi cosa ha scritto l'utente e poi modificarlo eventualmente. Detto in altri termini, l'unico che ha bisogno di conoscere chi è la scena e cosa fa è il controller. Sì, il main la crea ma poi se ne disinteressa. Chi lavora davvero con la scena è il controller. Il controller riceve eventi e fa cose. Vedete questo loop qua. L'utente tocca la scena, la scena genera eventi, dice io sono stata toccata ma non so cosa fare. Controller tu che sai, fai. Il controller fa e nel fare modifica la scena. Quindi c'è questo loop in cui i controller e la scena si interagiscono continuamente. Il main se ne disinteressa. Ma il controller a un certo punto capisce che una delle azioni dell'utente devono andare a modificare dei dati. Lui i dati non li ha, abbiamo scelto che non li deve avere, i dati sono nel modello. Il modello cosa conterrà? Conterrà gli elenchi, le liste, le strutture dati, tutto quello che vogliamo costruire sarà lì dentro. E osporrà dei metodi per creare elementi, aggiungerli, cancellarli eccetera eccetera. Poi questo dipende ovviamente dall'applicazione che dobbiamo fare. Allora ogni volta che l'utente, interaggendo con la scena, vuole che aggiungi un elemento, piacerà un bottone, questo genera un evento, arriva il controller, il controller capisce cosa l'utente vuole fare e dice bene, vuole inserire un numero. Model, vieni che devi inserire un numero. Quindi tutte le operazioni che effettivamente vanno a toccare i dati, vengono delegate dal controller al modello. Se il controller non le fa a lui, chiede al modello di farle. Quindi l'unico che deve in qualche modo di nuovo conoscere il modello è il controller. Il controller in qualche modo si guadagna il suo nome, è lui che deve controllare tutto, interaggere gli eventi, cambiare l'interfaccia e dare ordine al modello. Quindi il suo lavoro è quello, controllare ciò che succede, non farsi anche carico dei dati, ma farsi carico dello stato dell'applicazione, di che cosa sta succedendo. E ovviamente deve chiamare un metodo del modello solo se ha senso. Quindi se l'utente scherce un bottone e inserisce il dato, ma non ha inserito il dato, il numerino, quell'errore è un errore di interfaccia che deve gestire il controller. Quindi il controller fa la validazione dei dati. Prima di chiamare un metodo del modello dice ok, ho tutti i dati affinché il modello possa lavorare. No, perché l'utente si è dimenticato un pezzo. Allora diamo gli errori subito e non passiamo al controllo del modello. Per i principi generali poi cerchiamo di applicarli nell'esercizio. Mentre invece il modello farà il controllo dell'integrità dei dati stessi a seconda della logica applicativa. Quindi ad esempio come dicevamo prima, se c'è un dato duplicato non lo devo inserire. E come fa il controller a sapere se il 27 che l'utente vuole inserire è duplicato o no? Non lo può sapere perché lui non li ha i dati. Allora lui capisce che l'utente vuole inserire il 27, dice al modello inserisci 27 e sarà poi il modello a darmi un errore dicendo guarda non l'ho potuto inserire perché. Quindi separiamo anche qua le operazioni e le eccezioni, quindi gli errori della logica applicativa e della gestione dei dati se li pupa il modello, è responsabilità del modello. Le azioni e le eccezioni, gli errori dovuti all'inserimento dei dati nell'interfaccia se gestisce il controller. E quindi il controller, guardiamo questa freccia, che agisce sul modello. Il controller chiamerà, scusate, dei metodi sul modello. A go go ogni volta che hai bisogno di fare qualcosa. Quindi il controller deve conoscere il modello, giusto? Per poter chiamare dei metodi e delegare a lui le operazioni, quelle beccele, quelli sui dati. Il modello, chi deve conoscere? Che metodi chiama? Nessuno. Nessuno. Ah, lui avrà tanti oggetti sotto, avrà il suo bel da fare con i dati. Ma il modello non deve conoscere il controllore, non ha bisogno di chiamare dei metodi del controller. L'unico che chiama dei metodi sui controller è la vista. Il modello non ha bisogno di conoscere la scena, di sapere se quel dato che ha calcolato va a finire in una casella di testo oppure va a finire in una lancetta che gira. L'importante per lui mantenere il dato, poi come viene visualizzato lo deciderà la vista. E questo è il premio. Il fatto che il controller non dipende, scusa, il fatto che il modello non dipende né dal controller né dalla vista. Perché è un premio? Perché io posso svilupparlo a parte, implementarlo a parte, debaggarlo a parte, testarlo a parte, con dei dati di prova, con 50.000 test, senza mai neanche lanciare l'interfaccia grafica. Tutti i dati, tutta la logica del programma sta dentro una classe che non ha bisogno dell'interfaccia grafica per poter essere eseguita. Allora, questo è bello. Uno, perché ci permette di concentrarci separatamente sulla parte grafica e sulla parte logica. Due, perché domani noi potremo decidere di prendere la nostra applicazione, che è un'applicazione Jamfx e farla diventare un'applicazione Android, tanto si programma in Java anche su Android. Ecco, il modello lo prendiamo tale e quale. Ovviamente tutta la parte di interfaccia grafica sarà rifatta da zero, perché sono in giro, non c'è la vertex. Non diranno le scene, eccetera, eccetera. O domani voglio costruire un'applicazione web che faccia le stesse cose, che usi le stesse logiche, il modello lo prendo tale e quale. Oppure voglio scrivere un'applicazione batch che giri tutte le notte, che faccia certe operazioni su quei dati, il modello lo uso tale e quale. Perché il modello è una cosa che sa fare certe operazioni in un certo dominio, espone dei metodi per fare queste operazioni e non si interessa di chi stia richiamando questi metodi. Se è un'applicazione mobile, se è un'applicazione JavaFX, se è un'applicazione web, se è un processo batch che gira tutte le notti. Quindi siamo riusciti a tagliare il problema, a separare la gestione dei dati che può crescere col crescere della complessità dell'applicazione, rispetto all'interfaccia grafica che sarà complicata anche di suo per gestire tutti i bottoni, gli stati, eccetera, gli eventi, ma non è influenzata dalla complessità dei dati e viceversa. I dati non sono influenzati dalla complessità dell'interfaccia. Dimmi. In JavaFX questo non c'è. Allora, lui mi diceva che nel mio diagramma delle classi manca un pezzo rispetto allo schema generale, perché io vi ho venduto il modello come completamente separato dalla scena. Nello schema generale c'è scritto che ogni volta che il modello cambia, cambia dei dati, lui può informare la vista di questo cambiamento e quindi la vista in qualche modo si può aggiornare automaticamente ogni volta che i dati del modello cambiano. Allora, questo si è previsto, in JavaFX è un pochino complicato da fare, per cui noi di prima battuta non lo facciamo e quindi ogni volta che il modello cambia, non è che cambia da solo, cambia perché il controller gli ha detto che qualcosa doveva essere cambiato e allora ci penserà il controller ad aggiornare la vista. Quindi non implementiamo questo meccanismo automatico in prima battuta. Si può fare, nel senso che JavaFX ha degli oggetti che si è una cosa di binding, che non so se abbiamo tempo quest'anno di fare, ma se volete approfondirlo queste sono le parole chiave, il binding delle property, in cui tu puoi dire, guarda questa casella di testo qui si aggiorna automaticamente quando si aggiorna un dato che c'è dall'altrove, con un meccanismo di riservabilità automatica. Quindi se lo volete fare poi la ragioniamo a parte. Per ora è vero che la MWC prevederebbe questo, prevederebbe non tanto che il modello informi la scena, perché questo romperebbe un po' l'indipendenza del modello, è contrario, è la scena che chiede al modello di essere informata, per cui se la scena non ci fosse il modello non ne frega niente, non ha bisogno di saperlo. È la scena che si abbona, si iscrive le variazioni di alcune variabili del modello, con dei meccanismi che vanno costruiti. Ok, allora questo qua è il nostro framework. Vediamo come applicarlo. Allora per applicarlo io mi sono inventato un esercizietto semplice, che può partire semplice e può diventare complicato, che è quello di, per cambiare, l'anno scorso avevo fatto una rubrica telefonica, ma sono stufoli di fare le stesse cose, quindi cambiamo. Una cosa che sia molto simile. No, pensiamo al libretto universitario, non abbiamo più cartaceo, e vabbè, lo facciamo digitale. Vogliamo realizzare un'applicazione JavaFX che ci aiuti a tenere traccia degli esami nel nostro carico didattico e degli esami da noi superati. Quindi gli esami che devo frequentare, che sto frequentando, e quelli che ho già superato. Il programma deve permettere di inserire i dati di un nuovo esame, ricercare un esame già inserito, ricercandolo per codice. Quindi inserisco i vari esami e poi dico inserisco il codice, fammi vedere i dati, il nome, il docente di quell'esame. Qui dice che per l'esame bastano tre informazioni, il codice, il titolo e il docente. Poi in realtà, da qua si può aggiungere, ad esempio, si può aggiungere che io ho ricercato l'esame, allora per l'esame che ho appena ricercato, per codice ho trovato un esame, di quell'esame che ho appena trovato potrei inserire la data di superamento e il voto. Perché ovviamente quando io inserisco un esame non ho ancora passato, lo inserisco perché ce l'ho nel carico didattico. Poi più tardi vorrò dire, guarda quell'esame là che avevo inserito prima, adesso oggi l'ho superato, io ho preso 33. Oppure magari cancellare l'esame, l'avevo inserito, poi cambio idea, il professore non mi è tanto simpatico, provo a cambiarlo, eccetera. E ovviamente lo posso cancellare solo se non è stato superato, ancora. E così via, posso fare delle operazioni sull'elenco degli esami, quindi aggiungere o ricercare, oppure operazioni sul singolo esame. E poi sarebbe tanto carino che in ogni momento l'applicazione visualizzi la media degli esami superati, il voto medio degli esami superati. Ogni volta che aggiungo un esame, ne tolgo uno, inserisco un voto, mi venga sempre aggiornata questo valore medio. E così via. Allora, oggi non riusciamo a fare tutto questo. Cominceremo. Poi avremo un semilavorato in cui aggiungeremo varie parti. Comiene sempre, quando fate qualunque progetto, partire da alcune funzionalità di base, cominciare a far funzionare quelle e poi dopo ne aggiungiamo delle altre. Che non far tutto subito e poi solo dopo che avete scritto tutto cominciate a provarlo. Questo è un errore che vedo fare molto spesso. Scrivere tanto codice e poi dopo provarlo. Allora, se voi scrivete codice per più di mezz'ora e non avete provato a eseguire il programma, compilarlo, farlo funzionare, state sbagliando. Perché state buttando lì roba che magari, o sicuramente contiene degli errori, sicuramente, chiunque fa degli errori e se hai troppa roba, prima che tu riesca, quando poi lo testi e ci sono 30 classi diverse, vai a trovare qual è il problema. Se invece tu lo fai in modo incrementale, faccio una classe, la testo, sta lì, ne faccio un'altra, l'aggiungo, la testo, eccetera, eccetera. Quindi cercate sempre di, non scrivo e poi verifico, ma scrivo un pezzo e verifico quello, scrivo un pezzo e verifico quello e così via. Quindi anche noi faremo così. Quindi direi, come prima battuta, visto che il focus di oggi è quello di ragionare sul model view controller, implementiamo magari le prime due funzionalità. Poi magari ci predisponiamo per anche implementare le altre, non è un problema, però non le facciamo già subito. Poi siamo bravissimi, finiamo in fretta, possiamo cominciare a aggiungere qualcuna, se no ce lo teniamo per la prossima volta. Partiamo da qui. Allora, creiamo un nuovo progetto libretto e ci lavoriamo dentro e proviamo nello svilupparlo. Da un lato, diciamo così, ci serve un po' come ginnastica di JavaFX, così ci sveltiamo un po' e troviamo un po' anche lì in modi di lavorare più comuni e dall'altro ovviamente ci serve come applicazione di questi concetti che abbiamo visto. Allora, parto da zero, faccio insieme a voi, se riesco a cliccare qua, progetto e lo chiamiamo libretto, avanti, avanti, polito, tdp, libretto, la scena, la faccio in fxml, libretto, libretto, controllo, mi manca una o qua, ok? Bordertame va benissimo come elemento radice. E qui mi creo il progetto. Ok, una cosa per me non esiste se non ho un backup e quindi contestualmente vado immediatamente a creare un progetto su Github in cui andare a memorizzare questo. Quindi creo un nuovo repository, come abbiamo visto la volta scorsa, lo chiamo libretto, esercizio, libretto universitario, volto in aula e creo repository. E immediatamente condivido sul repository questo progetto vuoto appena creato. Così mi sono fatto il paracadute. Quindi era condividi progetto, team shell, e adesso lo abbiamo subito su Github, creo il repository locale, seleziono questa voce, clicca su crea, quindi crea un repository.github dentro la cartella di progetto e finalmente posso fare il primo commit del progetto del progetto e tutto questo. Adesso vedo in segno un'altra. Abbiamo visto la volta scorsa che per decidere quando faccio un commit di quali file mi interessa salvare la versione, era prendere questi e spostarli sotto. L'altra possibilità è partire dal progetto e avere un comando qua sopra, add to index. È la stessa cosa. Se ti fate questo index è l'elenco dei file che verranno salvati. Quindi li puoi prendere da qui direttamente, quindi ti fa vedere le differenze, oppure puoi anche prendere il singolo file e dire aggiungo quello all'indice, però se lo fai sulla cartella di progetto lui ricorsivamente aggiunge tutto ciò che è stato modificato. Quindi non solo ricordarsi di farlo prima e vedi che automaticamente te li porta sotto. Se non ti ricordi di farlo prima lo fai qua, non cambia niente, il concetto è lo stesso. Aggiungo all'area di staging le cose che sono state modificate. E come messaggio, progetto iniziale, commit and push. Su questo qui, sì, ho cambiato. Quindi qua siamo, aggiorno questa pagina, allineati con la versione iniziale del progetto. Ok, adesso cominciamo, basta giocare e cominciamo a lavorare. Allora, da dove partiamo? Noi possiamo a questo punto partire da due estremità opposte del progetto. O partiamo da interfaccia grafica, la disegniamo, cioè lavoriamo sull'fxml per pensare un po' come la vogliamo vedere, oppure partiamo dal modello. A questo punto li abbiamo tenuti separati, quindi non siamo obbligati. Quasi di sicuro l'ultima cosa che faremo sarà il controller, perché il controller lo devo fare solo dopo che so che cosa c'è nella vista e solo dopo che so quali sono i metodi che il modello mi offre. Quindi quello è l'ultimo, perché poi al fine è lui che tiene insieme il tutto. Possiamo partire dal modello, così ragioniamo sulle operazioni. Allora, per ordine, io il modello lo metto in un package che chiamo model all'interno della mia applicazione e qua dentro ci metterò le classi che hanno a che fare con il modello, con i dati. Allora tengo un package separato perché, diciamo così, regola del 9, all'interno di questo package modello non voglio vedere nessun riferimento a JavaFX, nessun metodo, nessun import di JavaFX qualcosa. Così questo mi garantisce che questo package modello possa essere eventualmente riusabile anche in altri progetti o in altri contesti possa crescere separatamente rispetto all'applicazione cinografica che stiamo facendo. Quindi lo tengo separato per quel motivo. Metà del gioco della programmazione oggetti è non capire chi deve conoscere chi, ma capire chi non deve conoscere chi. Vedere quali informazioni nascondere. L'information hiding è uno dei principi che permette di sementare le applicazioni in parti che sono gestibili separatamente. Quindi il modello conterrà tutta la logica dell'applicazione e nulla dell'interfaccia. La parola JavaFX, allora qua dentro è come se stessimo lavorando nel corso di programmazione oggetti. Dimenticate l'interfaccia grafica. Avessimo detto, ma ci servono delle classi che facciano, adesso l'ho tolta quella videata, che facciano questa gestione di voti, posso aggiungere, posso toglierne una? Sono classi normali di cui devo implementare una serie di metodi, devo memorizzare delle liste e come facevamo a programmazione oggetti il semestre scorso. Magari meglio perché nel frattempo siamo diventati più bravi. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo da gestire. Che dati dobbiamo gestire? Dobbiamo gestire un insieme di voti, o di esami meglio. Quindi converrà a definire una classe esame che contiene le informazioni che ci interessano su questo esame. Poi una classe è uno, ho tanti esami e quindi dovrò gestire una struttura dati che contiene esami, quindi sarà una lista di esami. Non esiste una classe lista di esami. Devo crearmi io una classe contenitore che a sua volta contenga la lista di esami. Questa classe contenitore sarà la classe che contiene l'elenco degli esami più tutti gli altri eventuali elenchi che mi servono. Non so, l'elenco di professori, il valore della media degli esami, una certa serie di informazioni che sono la conoscenza dell'applicazione. Tutto questo lo mettiamo appeso, che fa riferimento ad una classe, una o più, ma partiamo da una, che è il nostro vero e proprio modello. Quindi immaginiamo che ci servono almeno in questo caso due classi. Una prima classe che chiamiamo esame e un'altra classe che chiamiamo modello, o libretto model se volete, dove il model sarà una classe principale, che esiste dei dati di tipo esame. Esame è l'oggetto semplice. L'oggetto semplice che contiene i dati relativi al singolo esame. Quindi lo scriviamo. oggetto semplice a un singolo esame. Perché l'ho chiamato semplice? Non l'ho inventato, a volte si usa così, si chiama poggio, non so se avete già sentito nominare. Plain, old java object. Cioè un oggetto java semplice alla vecchia maniera, senza tante pretese, no? Cosa vuol dire? È un oggetto che all'interno ha dei dati privati, le proprie età. Stamattina non ho amicizia con la tastiera. Contiene al suo interno il costruttore ovviamente e contiene tutti i metodi getter e setter più i metodi di servizio. Quali sono i metodi di servizio? Quali sono i metodi che ogni oggetto che si comporti bene nell'ecosistema java deve avere? Voce. Equals. ToString. Minimo, minimo. Poi hashCode, lo vediamo poi meglio domani. Eventualmente compareTo. Cioè i metodi che fanno di quell'oggetto un oggetto che sa visualizzare i propri dati, sa confrontare i propri dati, eccetera, eccetera. Cosa che invece java non può sapere? Quindi ogni oggetto conterrà sicuramente toString, equals, hashCode e eventualmente lo metodo tra parentesi compareTo e poca altra roba. Questi ci devono essere sempre. Sempre. poi ci ragioniamo. Tra l'altro io devo riuscire a vincere una vostra abitudine di usare compareTo quando in realtà dovreste usare equals. Un'abitudine che avete appreso in passato e che io voglio che superiate. Perché mentre qualunque tipo di oggetto può essere confrontato con un criterio d'uguaglianza, A è uguale a B sì o no, non tutti i tipi di oggetti possono essere confrontati con un criterio di ordine. Perché compareTo mi dice maggiore o minore o uguale. Ci sono alcuni tipi di oggetti, pensate un punto in un piano cartesiano per cui maggiore o minore non ha senso. Un uguale diverso sì. Allora tutte le volte che vedo qualcuno che fa compareTo uguale a zero, if compareTo uguale a zero, mi sale il nervoso perché dico no, stai contestando l'uguaglianza, non stai confrontando maggiore o minore, ok? Ma ci arriviamo. Ok, questo è un oggetto completo, compiuto all'interno dell'ecosistema Java. Allora, partiamo ovviamente il 90% di sta roba è automatica, l'unico punto in cui c'è un po' di intelligenza è qua. Poi tutto il resto ce lo genera i clip da solo, quindi ci costa poco, però su questi qua dobbiamo pensare. Allora, quali sono le proprietà che caratterizzano un singolo esame? Allora, il codice, il testo ce lo diceva, no? Che sarà una variabile tipo stringa, poi c'è il titolo del corso e poi c'è il docente. Io posso pensare due cose sul docente, private string docente, oppure private docente docente. Cioè, ovviamente dobbiamo scegliere una di queste due. In un'implementazione terra terra, il docente non è un'entità vera e propria, ma è semplicemente un'etichetta, un nome, un colore che appicchiamo sul corso. Fine. In un'applicazione un pochino più articolata, io avrò probabilmente da qualche parte l'elenco dei docenti e quindi ciascun docente sarà rappresentato da un oggetto di una classe docente che contiene al suo interno i suoi dati, la matricola, il nome, il cognome, eccetera, eccetera. E quindi, salendo di un livello, il modello dovrà gestire l'elenco dei corsi, ma anche l'elenco dei docenti, che sono due elenchi separati che poi sono collegati tra di loro in qualche modo. Quindi, a tendere di sicuro questa è la soluzione giusta. Per oggi possiamo accontentarci della prima, però capite la differenza? Il codice è un attributo del corso, è privato, è un dato di tipo stringa privato quel corso lì. Esiste solo in quanto parte di quel corso, in parte della descrizione di quel corso. Non posso dire lo stesso del docente, per favore, che esiste solo in quanto un pezzo, un attributo, un'informazione collegata a quel corso. No, il docente esiste, per fortuna sua, indipendentemente dall'esistenza del corso, semplicemente è collegato in qualche modo. Ovviamente questi ragionamenti li faremo bene quando vedremo i database in cui abbiamo tante tabelle, il nostro ragionamento quando fate un modello di entità relazioni, lo fate. C'è un'entità corso, un'entità docente, c'è la relazione titolare, ad esempio, come database lo sappiamo fare. Impareremo come fare anche a traslare questa cosa in Java. Quindi sappiamo che il nostro punto di arrivo è questo, ma ci arriveremo tra due settimane, per ora fingiamo indifferenza, fingiamo che il docente sia semplicemente una stringa. Il che crea dei problemi, perché poi se hai uno studente che inserisce un corso come docente, Fulvio Corno, l'altro che inserisce Corno Fulvio, non ti accorgi dell'errore, perché è semplicemente una stringa. Queste sono le informazioni di minima che abbiamo deciso già di voler gestire oggi. Poi se vogliamo andare un pochino avanti, cominciare a prepararci, ma anche senza necessariamente implementare tutto, possiamo pensare che un esame è anche associato a un voto superato. Quindi l'esame può essere un esame superato o non superato, se è superato a un voto e una data di superamento. Giusto? Quindi ho ancora altri tre attributi che posso aggiungere per fare poi l'applicazione completa, quella che tiene conto anche dei voti, che abbiamo detto che forse oggi non riusciamo finire. E quindi ci sarà un dato booleano che mi dice se l'esame è stato superato o no, e nel caso in cui si è stato superato avrò bisogno di memorizzare anche da qualche parte il voto e anche la data. Io non uso date, java.util.date, perché farò una lezione la cui prima metà sarà quanto fa cagare date, e invece c'è un'altra classe che nella seconda metà di quella lezione conosceremo, che si chiama localdate, che fa parte di un package java.time. Faremo una lezione apposta sul package java.time, è stato introdotto in java 8 e per fortuna ci dà un modo decente di gestire le date. Per ora lo dichiaro solo perché tanto abbiamo deciso che oggi questa parte non la facciamo, però lo mettiamo lì quando faremo le date aggiungeremo questa parte qua. Quindi data superamento. Se avete fretta sappiate che un suggerimento così da bigliettino da biscotti cinesi è non usate java.util, le classi di java.util per le date, ma usate le classi di java.time. Ok, questo è ciò che dobbiamo, queste sono diciamo così tutte le proprietà che ci interessano. Costruttore. Allora il costruttore è ovviamente un metodo, cioè non è proprio un metodo, ma siamo implementato come un metodo che deve inizializzare un nuovo oggetto. Allora l'unica domanda che ci dobbiamo fare quando definiamo un costruttore è quali parametri servono, quali informazioni, quali proprietà sono necessarie per poter costruire l'oggetto. Quando costruisco un nuovo corso? Vabbè mi serviranno le prime tre proprietà e le seconde due di solito non ce l'ho ancora, quindi non le chiedo. Avrò poi un metodo aggiuntivo che dice beh adesso il voto lo hai superato. Quindi il costruttore è semplicemente un metodo che mi faccio generare da Eclipse, quindi ricordiamoci dopo che abbiamo inserito le proprietà, il 90% del lavoro è andare a spulciare il menu source qua di Eclipse, genera il costruttore a partire dai campi. E lui mi dice quali campi vuoi che vengono usati come parametri del costruttore, cioè che chi vuole costruire un oggetto di tipo esame deve passare, beh codici di titolo docente sì e gli altri no. Io voglio che chiunque possa costruire oggetti di tipo esame, quindi lascio il costruttore pubblico, vedremo poi un pattern in cui il costruttore invece va messo privato, può sembrare strano ma l'oggetto può solo costruirsi da solo, ma normalmente il costruttore è sempre pubblico. E quindi abbiamo il nostro costruttore public, abituiamoci a mettere sempre il commento che dice che cosa fa, nuovo esame, barra, asterisco, asterisco. Se ti metti due asterischi, quando fai invio Eclipse completa e genera lo schemino, che tra l'altro è quello che ti, quando fai, quando porti il mouse direttamente sopra il nome della classe, qui o dove la usi, ti fa il frammento di javadoc, così come lo vediamo nelle classi di libreria. Nuovo esame, non ancora superato. Il codice sarà codice dell'esame, il titolo è la denominazione del corso e il codice è cognome e nome del titolare, docente titolare. Avendo scritto questo, se io vado sopra la classe, mi dà le istruzioni per poterlo usare. Allora, questo costruttore fa quello che si fa in automatico, cioè prende i parametri passati e li inserisce dentro le proprietà della classe, noi in realtà dobbiamo fare ancora un pezzo, dobbiamo dire che questo esame non è stato superato. La proprietà superata non me la faccio passare dal chiamante, io so che quando costruisco un oggetto questo non è stato, è un esame, è relativo ovviamente a un esame non ancora superato. Poi avrò i vari metodi get a set, che permettono dall'esterno di poter andare a modificare le proprietà di questo oggetto. Allora, ci chiediamo quali sono le proprietà che vogliamo che dall'esterno possono essere modificare e per questo definiamo un setter. E analogamente quali sono le proprietà che vogliamo che dall'esterno possano essere lette e per questo definiamo un getter. Se non vogliamo pensarci troppo possiamo costruire tutti getter setter, poi ci ragioniamo un secondo. Quindi, source, aggiungi getter setter e qui si dice di quali campi, di quali proprietà vuoi generare i cosiddetti accessori, i metodi per accedere alle proprietà, ma possiamo dire tutti, poi eventualmente cancelliamo quelle che non ci piacciono. E di ciascuno possiamo scegliere se mettere il getter setter, quindi ogni metodo ovviamente avrà un getter set, salvo le variabili di truppo booleano, che sapete che il metodo getter, anziché chiamarsi get, si chiama is. Vabbè, questa è la convenzione Java. Aggiungi i commenti, così mi fa lui. Ok. E qui abbiamo tutto. Poi, altri metodi obbligatori, abbiamo detto, no? Quello che dobbiamo mettere è il costruttore, l'accessor method, quindi getter setter, il toString, e anche lui mi chiede, ma quali campi vuoi vedere nel toString? Mettiamoli tutti, poi se ci piace, se non ci piace lo andiamo a modificare. Ok. E quindi mi genera questa versione qua un po' verbosa, e eventualmente possiamo poi andare a modificare, a restringere, ma per partire facciamo in fretta, no? E poi l'uguaglianza. General metodo equals. Perché mi serve il metodo equals? Ma perché altrimenti una volta che ho inserito, una volta che ho inserito un oggetto in una qualunque collection, non lo so più trovare, ritrovare. Quando avete una lista e vi chiedete contents, per sapere se un oggetto è contenuto o no, oppure index of, la lista appunto index of di questo corso, vi passate l'oggetto corso, vi chiedete in che posizione della lista è, oppure meno uno se non c'è. Come fa lui a sapere, a trovarlo? Lui, il metodo index of, oppure il metodo contents, fa la stessa roba, ok, il contest dice un booleano, sì, no, invece l'index of dice in che posizione c'è, prendono uno per uno gli elementi della lista e lo confrontano con l'elemento che gli hai passato. Come fanno a confrontarlo? Chiamano il metodo equals. Quindi sono io che devo definire un metodo equals per dire alla lista cosa vuol dire che un elemento è contenuto al suo interno oppure no. Cioè che cosa rende uguali e che cosa rende diversi due elementi una volta inseriti in un elenco? Se non lo faccio, ovviamente equals è già definito a livello di object, ma l'equals predefinito va a confrontare che cosa? Per dire, per decidere se gli oggetti sono uguali o no. Lo sapete? L'indirizzo di memoria. Quindi se due oggetti hanno lo stesso indirizzo di memoria, vengono considerati uguali, certo è lo stesso, è lui, sta nella stessa indirizzo di memoria. Se due oggetti, puramente tutti i campi identici, sono in due zone di memoria diverse, perché uno ha fatto il new prima, l'altro ha fatto il new dopo, perché il primo ha fatto il new quando l'utente aveva inserito e poi la seconda volta lo faccio quando l'utente mi inserisce i dati per fare la ricerca. Quindi ho due oggetti diversi, ma contengono le stesse informazioni, e l'equals predefinito mi dirà no, non sono uguali. Quando in realtà io li voglio considerare uguali. quindi sono io che decido cosa vuol dire uguali. Come? Definendo il metodo equals. E dico quali sono, e Eclipse mi aiuta, perché mi permette di dire quali sono le proprietà dell'oggetto le quali, se coincidenti, fanno considerare l'oggetto uguale. Cioè, due esami sono uguali se hanno lo stesso codice. Fine. Tutto il resto non mi serve, non devo andare a confrontare il titolo, il voto, eccetera. Quindi il codice è, nel database lo chiamavamo la chiave primaria, qua lo possiamo chiamare la proprietà identificatrice, il criterio di uguaglianza. Due corsi sono, li considero uguali se il codice inserito è lo stesso. O poi, se sono pirla io che inserisco due corsi diversi con lo stesso codice, ci sono i problemi. Però lui li considera così. Non va a confrontare il nome, non va a confrontare il docente, non va a confrontare il voto. Non voglio che vada a confrontare queste altre cose, perché mi basta che confronti il codice. e quindi gli farò generare un metodo equals che considera solamente il codice. E quindi lui alla fine mi dice, al di là di test sui null e contro null, il vero lavoro che fa è se il codice di un oggetto è uguale al codice dell'altro oggetto. Cioè questo equals a livello di classe esame viene ribaltato sull'equals viene delegato all'equals a livello di proprietà codice che a sua volta è una stringa quindi qua alla fine viene chiamato string.equals. 90% di queste cose sono fatte così. Io ho un oggetto più grande e le sue proprietà, per ottenere le sue proprietà delego di solito a metodi analoghi degli oggetti costituenti. Quindi questo è l'oggetto proprio stupido stupido a tutto ciò che gli serve per vivere. Quando Eclipse ci fa creare un equals crea anche contemporaneamente una classe hash code. Ve lo dice Marcelli domani perché a cosa serve. Adesso che lavoriamo solamente con le liste non ci serve. poi in realtà questo oggetto qua ha anche un minimo di intelligenza poveretto. Cioè a un oggetto devo riuscire a mantenere una certa coerenza interna. ha senso secondo voi chiamare un metodo dove è andato setVoto se non chiamo anche contemporaneamente setSuperAto uguale true? Ha senso mettere setSuperAto uguale true se non imposto anche contemporaneamente il voto? Ha senso chiamare setSuperAto uguale true se era già true? Tra un po' no queste risposte. Mentre se vogliamo il titolo il nome sono string a parte il codice che dà l'identità ma tutto sommato non fa i grossi danni se il nome l'ho sbagliato devo correggerlo devi modificare quel campo questi altri tre attributi il voto la data e il flag superato vero o falso vanno di pari passo quindi avrebbe senso fornire all'utente un metodo per cambiare tutti e tre insieme che ne so io lo chiamerei un metodo supera esame punto supera a cui passo il voto e la data e questo metodo cosa deve fare? io sempre prima la documentazione che è il codice perché prima voglio convincermi di essere sicuro di sapere cosa deve fare il metodo poi lo faccio quindi se l'esame non è ancora superato lo considera superato con il voto e la data specificati se invece fosse già superato errore non posso chiamarlo quindi a questo punto vuol dire che prima di tutto prima di dire ok salvo il voto controllo se non è ancora superato if not this punto superato ok bene allora lo supero this punto superato uguale true this punto voto uguale voto this punto data uguale data data superamento si chiamava uguale data altrimenti ho un problema perché sto cercando di dire ho passato un esame con un certo voto quando in realtà l'avevo già passato e allora non va bene posso a questo punto sparano un'eccezione sperando che chi ha chiamato questo metodo vada a controllare quell'eccezione di che tipo di eccezione allora ce n'è una che secondo me fa il nostro caso che è legal state exception vediamo cosa dice vabbè qui il javado fa pena perché dice costruisce un'eccezione così c'è un'eccezione il legal state di solito vuol dire fanno parte delle eccezioni di tipo runtime che quindi possono essere denunciate in ogni momento runtime exception è la più generale vuol dire è successo qualcosa che non va voi probabilmente conoscete bene la null pointer exception perché è saltata fuori spesso ma quando abbiamo degli oggetti nostri cerchiamo di dare anche un motivo non semplicemente exception e basta allora il legal state vuol dire che ho chiamato un metodo su un oggetto il cui stato interno non permetteva che questo metodo avesse senso essere chiamato scusate se la frase è un po' strana cioè vuol dire che l'oggetto interno in questo caso è uno stato esame superato o non superato a seconda che si è superato o no ha senso non chiamare certi metodi se io chiamo un metodo quando non devo ho chiamato un metodo in uno stato illegale dell'oggetto l'altra eccezione che userai spesso è anche il legal argument exception cioè se per caso io passassi un voto 40 il valore dell'argomento è sbagliato non è lecito quindi dovrei anche controllare questo prima di salvarlo così alla cieca allora in questo caso diciamo che esame tal dei tali già superato così diciamo insieme all'eccezione diamo anche il messaggio che permetta a quel tapino del programmatore che siamo sempre noi di capire cosa è andato storto quindi questo vuol dire che quando l'utente di questo oggetto vuole registrare che un voto è stato superato non va a chiamare set superato set voto set data superamento ma chiama il metodo supera quindi l'oggetto al suo interno garantisce la coerenza grazie a questo metodo di un pochino più alto livello e quindi se voglio questi altri metodi qua set data superamento set voto non te li faccio chiamare non voglio che qualcun altro li chiami perché altrimenti rischia di rovinare la coerenza perché io ho detto non puoi impostare il voto di un esame che è stato superato però uno mi chiama direttamente set voto e mi cambia da sotto quindi li possiamo lasciare come metodi perché può far comodo ma private li posso chiamare solo io se mi servono nessun altro mentre gli altri volendo possono essere liberi anche il get voto ecco ad esempio il get voto anche ha senso che io ritorno un intero quando in realtà l'esame non è superato ha senso che get voto sia chiamabile se l'esame non è superato che valore deve restituire no non deve restituire niente deve arrabbiarsi e basta non deve essere chiamabile quindi restituisce il voto solo se l'esame è stato superato altrimenti eccezione e quindi qua diciamo proteggiamo questo return così vuoto con if di spunto superato bene altrimenti è questa cosa qua andiamo a prendere questa eccezione cambiamo il messaggio ovviamente esame non ancora superato la stessa cosa per la data che è data superamento gli facciamo lo stesso trattamento quindi stiamo costruendo un oggettino di esame che è capace di gestire l'esame a creare un esame nuovo e a superare un esame esistente e poi ovviamente a poter conoscere le varie informazioni dei pezzi dell'esame quando abbia senso conoscerle is superato invece deve essere chiamabile sempre perché immaginatevi il modello che deve chiamare quell'oggetto la prima cosa dice if is superato allora get voto in modo che chiamo get voto quando sono sicuro che sia superato abbiamo scritto divertendoci scherzando 100-200 righe di codice adesso noi dovremmo costruire questo è un esame una lista di esami da gestire però prima di gestire la lista di esami che sarà dentro la classe modello che poi era il nostro obiettivo ci siamo un po' attardati a ragionare sulla classe base ma è meglio nel senso che più ogni singolo oggetto si protegge da solo si gestisce in modo furbo più è facile poi usarlo a livello superiore non devo rifare 50 volte a livello superiore gli stessi controlli però prima di andare avanti proviamo se funziona allora cosa facciamo per provare se funziona facciamo un'altra classettina questo si chiamava esame la chiamo test esame adesso qui non andiamo a fare cose complicate con junit ma una cosa molto semplice test esame che abbia un metodo main quindi una classettina di test che prova a usare questi oggetti e vede se funzionano bene qualcuno vuole se volete lo potete mettere in un package separato indifferente quindi la classe test esame avrà un metodo main che ha come obiettivo quello di provare a creare un po' di oggetti esame fargli fare cose e vedere se funzionano bene quindi userà la classe esame chiamiamolo l'esame tdp è questo qui cosa sarà un new proviamo a crearlo esame passo i codici 0 3 f y z tecniche di programmazione e poi provo a vedere se l'ha scaricato bene base base e provo a eseguire questo main e mi dovrebbe stampare il corso mi dice l'oggetto che hai creato è l'oggetto esame codici solidità il titolo uguale a quello docente superato o falso e poi mi stampa anche voto 0 data superamento perché il two string è stupido non abbiamo ancora sarebbe bello modificare il two string a seconda che sia superato o no che stampi cose leggermente diverse poi io posso creare un altro esame l'altro esame che sto facendo l'altro corso che sto facendo adesso che mi dispiace sempre che non ci siano dei gestionali che lo seguono è quello di ambient intelligence e mi chiedo innanzitutto lo stampo e poi mi vedo se se per caso lui li considera uguali poi provo a dire che TDP viene superato con ovviamente 30 oggi e mi stampo di nuovo TDP per vedere se è vero che la salvate questi dati fate un po' di ginnastica insomma provo a chiamare i vari metodi in varie combinazioni dovrei provare allora mi dice questo mi dice il secondo che ho stampato mi dice che non sono uguali e adesso l'esame TDP me lo ha ristampato dicendo che è superato uguale true voto data superamento 20 marzo 2017 se io provassi adesso a dire che questo ho superato con 18 sempre lo stesso esame mi aspetto che mi spari un'eccezione a questo punto eccolo qua infatti attenzione il legal state exception l'esame 0.3 f ex è già superato quindi ovviamente un main fatto bene dovrebbe mettere qua un try catch per andare a verificare che effettivamente questa eccezione viene generata e così via quindi qua ci aggiungiamo un po' di codice e verifichiamo che faccia che l'oggetto faccia ciò che deve fare che non ci dia del null pointer non dovuti o altre cose strane quindi dovremmo scrivere un po' di codice io gli scorsi anni questo main di prova se andate a vedere i progetti o le lezioni vecchie le mettevo direttamente dentro l'oggetto esame tanto non cambia un granché preferisco tenerlo separatamente tanto in realtà sono due click nuova classe uno perché così è chiaro quali sono le classi di test ma soprattutto perché essendo in una classe separata io qua non posso accedere ai metodi privati mentre invece se questo main fosse stato messo direttamente dentro la classe java avrei potuto anche chiamare i metodi privati e quindi falsava un po' perché avrei potuto fare l'operazione che poi i veri utenti di quell'oggetto non potevano fare ok quindi abbiamo una parte del nostro modello che è la classe esame implementata al 100% al 90% non lo sappiamo vediamo se poi ci mancano dei metodi utili e con un test una piccola classe di test per verificare che funzioni correttamente quindi adesso possiamo concentrarci sul modello a livello superiore prima di ciò ovviamente un bel commit dove add aggiungi le modifiche e ho modificato la classe esame la classe test esame la classe modello ovviamente e così ce l'ho se faccio casino posso tornare indietro finora abbiamo ragionato abbiamo risposto a una domanda che cos'è un esame quali sono le informazioni relative a un esame che cosa posso fare con quelle informazioni non abbiamo cioè cosa non sapevamo non abbiamo avuto bisogno di sapere informazioni che non abbiamo usato non abbiamo usato l'informazione su che cosa fa il programma che stiamo facendo questo è il scopo del model e non abbiamo usato l'informazione su come l'utente lo usa che questo sarà lo scopo del controller della vista adesso saliamo di livello entriamo nel modello e aggiungiamo l'altra informazione su quali sono le funzioni che deve fare questo programma allora di base dovrà fare una cosa molto semplice gestire una lista di esami se il modello alla fine ha come obiettivo principale quello di contenere in questo caso con solo struttura dati c'è una lista di esami ma quali operazioni è possibile fare su questa lista di esami allora dobbiamo andare a riprendere lo scopo dell'esercizio per capire quali sono le funzioni in generale che l'applicazione deve fare e quindi che poi il modello dovrà implementare nella pratica a questo punto non ci interessa più tanto capire cos'è il singolo esame perché l'abbiamo già incapsulato nella classe esame quindi cerchiamo ad ogni livello di rispondere a una domanda diversa allora direi che dopo l'intervallo possiamo divertirci a riempire anche la classe model grazie a tutti